Anche stasera, stessa ora, stanno arrivando. Guardate quanti! Io li ho visti anche oggi all'una e mezza sulla collina. Un po' proprio sotto casa, eh? Guardali, guardali! Tanti! Tanti, tanti! Una mandria, perché ce ne sono anche là in fondo. Piccoli! Cosa abbiamo da buttare? Le carote! Dobbiamo prendere una cerebottana. La macchina fotografica non è così fedele. Sono veramente vicini. Però purtroppo...